Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi parliamo dei pipini di prima, però vi ricordo di lasciar un mi piace qui sotto, iscrivervi al canale e seguirmi anche su Instagram. Mi trovate come Diario di Charbotte. I Franchi, più che un popolo vero e proprio, sono una confederazione composta da diverse tribù di origine germanica. Il nome Franchi, infatti, non identificava la gente precisa, ma significava coraggiosi e più tardi liberi. Come abbiamo detto nella scorsa videolezione dedicata alla dinastia dei Merovingi, che vi lascio qui sopra, il Regno Franco è un regno molto importante. Nel VII secolo il Regno Franco viene diviso in vari territori autonomi, i più importanti sono la Neustra a ovest e l'Austrasia a est, e li vedete qui. La dinastia dei Merovingi rimarrà in carica, abbiamo detto, fino al 751, quando prenderanno il potere i Pipinidi. I Pipinidi sono dei nobili franchi che ricoprono la carica di maestro di palazzo. I Pipinidi diventano governanti di fatto della Neustra e dell'Austrasia, anche se nominalmente questi territori dovrebbero essere in mano ai Merovingi. Pipino I di Landen è un maggiordomo di palazzo, e governa durante il Regno Merovingio di Clotario e dei suoi figli, Sigeberto e Dagoberto. Pipino di Landen è dunque il capostipite della dinastia dei Pipinidi. Dopo Pipino di Landen salirà al potere Pipino di Ershtal, che governerà di fatto l'Austrasia tra il 680 e il 714, e lui è il bisnonno di Carlo Magno. Nel 687 Pipino di Ershtal riunificherà anche l'Austrasia e la Neustra. Quando muore Pipino, nel 714, sale poi al potere Carlo Martello. Carlo Martello lo ricordiamo per l'impresa di Poitiers del 732, di cui abbiamo parlato nella video-lezione dedicata all'Islam dopo Maometto, che vi lascio qui. Carlo Martello viene chiamato così perché è un piccolo Marte, e diventa il maggiordomo dell'Austrasia e della Neustra. Sconfigge gli arabi a Poitiers e impedisce che occupino le regioni occidentali dell'Europa. Diciamo che Carlo Martello è ricordato in modo leggendario, perché questo scontro di Poitiers, secondo gli storici moderni, in realtà è stato un piccolo scontro, è stato di modeste dimensioni, di durata giornaliera, addirittura senza vincitori né vinti. Però con questa battaglia i franchi vengono visti come difensori della cristianità occidentale, quindi si tratta di propaganda, propaganda come i franchi difensori della cristianità. Nel 741, quando morirà Carlo Martello, prenderanno al potere i suoi figli, tra cui Pipino il breve, il papà di Carlo Magno, maggiordomo di palazzo durante il regno del re Merovingio Childerico III. I Pipinidi sono al potere, però sono al potere in quanto maggiordomi, quindi affiancano, però di fatto in realtà sono loro i re. I re Merovingi sono dei re fantocci. Di conseguenza Pipino vuole prendere veramente in mano il potere, vuole eliminare i Merovingi e finalmente rendere la dinastia dei Pipinidi, ufficialmente la dinastia dei re dei franchi. Cosa fa Pipino il breve? Chiede al papa l'autorizzazione a proclamarsi re dei franchi al posto di Childerico, re Merovingio. Viene consacrato re nel 751 dal vescovo Bonifacio e poi verrà riconsacrato re nel 754 da papa Stefano II. Quindi l'incoronazione papale da parte del papa dà alla dinastia dei Pipinidi un carattere sacro, inedito. Nonostante Pipino sia un usurpatore, era un maestro di palazzo. Pipino viene unto con la sacra ampolla proprio come i re Merovingi. Nel 754 Pipino si scontra anche con i Longobardi, infatti interverrà in Italia contro il re Longobardo Astolfo che minacciava il papa. Abbiamo parlato dei Longobardi in un'altra video lezione che vi lascio qui. Nello stesso anno Pipino incontrerà il papa e verrà accolto con tutti gli onori. Si parla infatti anche di una particolare pratica che farà proprio Pipino nei confronti del papa. Si chiama Officium Stratoris. L'aveva già fatto Costantino, quindi procedere a piedi conducendo per il freno il cavallo su cui cavalca il pontefice. Questo gesto lo farà di nuovo Pipino. Pipino, come abbiamo detto, viene unto dal papa insieme ai suoi figli. I franchi discendono allora in Italia e sconfiggono i Longobardi. In questo modo il papa ottiene il Lazio, l'Umbria, la Pentapoli e l'Esarcato, come testimonia anche la donazione di Costantino. Finalmente noi diamo a papa Silvestro il nostro palazzo e tutte le province, palazzi e distretti della città di Roma e dell'Italia e delle regioni occidentali. In realtà è un falso storico perché la donazione di Costantino, noi abbiamo parlato nella lezione su Costantino che vi lascio qui, è un documento del 700-800 d.C. è stato creato a posteriori e infatti nel XV secolo Lorenzo Valla e Niccolo Cusano ne dimostrano la falsità. Nel 768 saliranno poi al potere i due figli di Pipino, Carlo e Carlo Manno. Quando Pipino il breve sentì la morte avvicinarsi, chiamò i due figli al suo capezzale. Vi ho convocati qui perché siate testimoni delle mie ultime volontà. Voglio dividere il regno dei franchi tra i miei due amati figli. Carlo sarà il nostro Carlo Magno. Entrambi verranno unti e incoronati re, come da tradizione. I figli di Pipino, quindi Carlo e Carlo Manno, sposeranno le figlie del re Longobardo Desiderio. Carlo Manno sposerà Gerberga, mentre Carlo sposerà Ermengarda. Questo nome vi ricorderà sicuramente il Manzoni. Dobbiamo dire innanzitutto che noi non conosciamo veramente il nome della moglie di Carlo Magno, della moglie Longobarda. Probabilmente il suo vero nome era desiderata, ma non ne siamo sicuri perché ha subito la Damnazio Memorie, cioè la cancellazione della memoria. Il nome Ermengarda lo dobbiamo alla Delchi del Manzoni, che racconta la guerra tra i franchi e i Longobardi. Vi lascio alla prossima video-lezione su Carlo Magno. Vi lascio alla prossima video-lezione. Grazie a tutti